Ma è chiaro che Trump sta rispondendo al suo elettorato, perché Trump è stato bersagliato dal primo giorno in cui ha vinto le elezioni e questa polemica è continuata fino ai giorni nostri, fino ai giorni di oggi con questi provvedimenti, perché c'è una parte degli Stati Uniti che non si è ancora fatta passare l'idea, non ha ancora digerito l'idea che Trump abbia vinto. Queste manifestazioni che stiamo facendo vedere mentre sta parlando. Esattamente. Se Trump ha vinto evidentemente è perché ha saputo esprimere quello che è il disagio della maggioranza degli americani, quello che è il disagio delle fasce più deboli americane, perché vedete a protestare vediamo le grandi multinazionali, le star della televisione, gli artisti miliardari, ma non vediamo la gente comune. Evidentemente Trump interpreta il disagio della gente comune che dell'immigrazione non ne può più. Non ne può più negli Stati Uniti come non ne può più in Italia e in Europa. E allora se il provvedimento può essere contestato forse nella forma, perché l'avete detto giustamente voi, si blocca l'accesso temporaneamente, questo va detto perché è stato presentato come un bando dei cittadini di quei paesi dagli Stati Uniti, quando le cose non stanno così. È un blocco temporaneo dell'accesso per i cittadini di quei paesi dove c'è una situazione di guerra o di instabilità. Tolto l'Iran, che è la ragione credo sia più politica, del resto Trump ha sempre detto che non condivideva la linea di Obama nei rapporti USA-Iran, gli altri sono tutti i paesi dove c'è guerra o comunque dove c'è una situazione di instabilità. E quindi per una scelta di sicurezza nazionale è molto spiegabile questa decisione. E noi dovremmo farlo o no? Noi dovremmo, beh, noi assolutamente dobbiamo cambiare le politiche in campo di migrazione. Ma questo ormai lo dice anche il Partito Democratico. Il ministro Minniti sta di fatto sottoscrivendo tutte quelle che sono state le proposte della Lega Nord negli ultimi anni. Quando Renzi e il PD ci davano dei demagoghi, dei pazzi, perché dicevamo che avremmo dovuto fare degli accordi transnazionali con i paesi del Mediterraneo, che avremmo dovuto bloccare gli sbarchi, che avremmo dovuto rendere più veloci i procedimenti di riconoscimento o meno del diritto di rifugiato e poi di conseguenza i rimpatri, venivamo accusati di essere razzisti, xenofobi, tutte quelle cose che abbiamo sentito dire tante volte. Oggi Minniti si presenta in Parlamento e dice le stesse cose. Dice dobbiamo bloccare i flussi, dobbiamo regolamentarli, dobbiamo far entrare soltanto le persone che possono avere lo status di rifugiato e che il nostro sistema economico può recepire, dobbiamo velocizzare le procedure di espulsione.